SABBATO 11 DICEMBRE Diceva appunto che il giornalista RP lo scorso 11 dicembre aveva mosso una pesante critica nei confronti del comune di Portogruaro perché quest'ultimo non avrebbe predisposto a pochi giorni da Natale alcuni alluminari in corso martida libertà, come alcune foto scattate da Mario Angeli avrebbero testimoniato. Le critiche di RP sono state però smentite dalle immagini girate dal sottoscritto e pubblicate su Youtube e su Facebook, dove si era subito levato un coro di indignazione e protesta verso le parole usate dal giornalista RP per descrivere le luminarie a Portogruaro. Il lunedì successivo il giornalista RP ha dovuto perciò compiere una clamorosa retromarcia, smentendo di fatto quanto aveva affermato solamente due giorni prima, attraverso un servizio nel corso del quale ha letto un testo sulle luminarie a Portogruaro, che pareva una poesia di Natale. Da sottolineare il profondo respiro fatto dal giornalista al termine del servizio, una rettifica che forse gli ha pesato un po' fare. Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. E adesso un servizio sulle luminarie a Portogruaro, immagini girate questo pomeriggio. Luminarie, luminarie, quanto sono belle, quanto sono sobrie. Le luminarie a Portogruaro sono all'insegna della sobrietà, lo hanno ribadito anche questa mattina. In corso martiri le luminarie finalmente ci sono, per fortuna. Sono stati predisposti gli addobbi, attorno ai piccoli pini che si trovano di fronte alla scuola e ai pini sistemati lungo gli archi dei portici, una novità assoluta rispetto ai Natali precedenti. Luminarie da paesaggio fiabesco invece lungo i mulini del fiume Lemene, nel posto forse più romantico di Portogruaro. Molti hanno collaborato per la spesa delle luminarie, alcuni invece no, creando un comprensibile malumore. Ma tant'è, è giusto andare avanti, anche perché non serviva poi sborsare così tanti soldi. Ma le luminarie ci sono anche quest'anno, per fortuna che è Natale, per fortuna che comunque un gruzzoletto si è riusciti a tirare su. Anche a Portogruaro, con Piazza della Repubblica, che è il salotto buono della città, illuminerà l'albero facendo grande attenzione ai temi dell'ambiente. Un Natale così, un Natale sobrio, rispettoso dell'ambiente e, ancora di più, della situazione non proprio felicissima di chi ha bisogno. Torna al teatro Vivaldi di Jesolo verso nuove stagioni, quarta edizione.